Ma poi ancora, respiro, sei un sogno, un giambe, happy, 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 Santomero! Oltre 10.000 le persone, qualcuno parla di 12.000 passa presenze, questa è la Folla Record che ieri sera ha presenziato a Santomero al concerto di Giussi Ferreri. Successo di pubblico e di consensi oltre le più rose aspettative per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Santomero, una due giorni che all'inizio sembrava dovesse essere fullestata dal maltempo e dalla pioggia, ma che invece è stata graziata con buona pace degli organizzatori. Il concerto dell'artista siciliana era sicuramente il momento clou di queste due giorni, e la cantante con una voce duttile, un timbro inconfondibile, ha deliziato i presenti con i suoi più grandi successi, recenti e passati, calamitando consensi e attenzioni, richiamando il pubblico da ogni parte della provincia di Teramo. In tanti hanno gremito il centro storico di Santomero per seguire l'esibizione della Amy Winehouse italiana, come fu definita dai critici agli esordi. Un grande successo che ha chiuso le celebrazioni di questa edizione della festa del Patrono di Santomero, organizzato dal Comitato Feste Locali, dalla parrocchia e con il patrocinio dell'ente comunale. Ora appuntamento all'anno prossimo con una nuova esaltante edizione. Grazie! Grazie! Grazie!